Cilento, Salerno. I 29 comuni che fanno parte dell'Associazione Aree del Cilento Interno si sono organizzati per individuare e allestire i locali utili all'erogazione dei servizi ambulatoriali e del servizio di infermiere di comunità, frutto di un accordo tra l'Associazione, presieduta dal Vice-Sindaco di Rocca d'Aspide Girolamo Auricchio, e l'ASL. I comuni che fanno parte della Strategia Nazionale delle Aree Interne del Cilento, sono quelli di Aquara, Bello Sguardo, Campora, Cannalonga, Castelcivita, Castelnuovo Cilento, Castel San Lorenzo, Ceraso, Controne, Corletto Monforte, Felitto, Gioi, Laurino, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Monteforte Cilento, Novi Velia, Orria, Ottati, Perito, Piaggine, Rocca d'Aspide, Roscigno, Sacco, Salento, Sant'Angelo a Fasanella, Stio, Valle dell'Angelo e Vallo della Lucania. L'infermiere di comunità garantirà agli utenti una presenza continuativa, il professionista fornirà prestazioni dirette sui pazienti. Il lavoro dell'infermiere di comunità sarà erogato in collaborazione con gli altri professionisti del territorio come, ad esempio, il personale sanitario e gli assistenti sociali. Una volta individuati e allestiti tutti i locali, si procederà all'attivazione ufficiale del servizio.